Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. 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 ci sono tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. discutere. anche perché la e la... Eravamo tutti, sapevamo di cosa si stava parlando e allora ognuno di noi cercava di tirare fuori le proprie sensazioni, i propri sentimenti, il proprio modo di essere. E questo cercando di ascoltare gli altri, cercando anche di capire, a me è servito molto per tante cose, anche nel relazionarmi fuori, sul posto di lavoro, su queste cose qua. E questo è stato il percorso meraviglioso che ci ha accompagnato e che spero stia accompagnando anche i genitori che adesso stanno facendo questo percorso. Che cosa è rimasto? C'è un grande vuoto, quello sicuramente. Il vuoto, quando uno dice una persona dà il 100% di se stesso, non puoi dire che a ogni figlio gli dai il 33% di te stesso, del tuo affetto. Gli dai il 100% a tutti e tre. Ed è logico che lì c'è un vuoto, c'è un'assenza che cerchi di colmare attraverso tanti aspetti che possono essere sentimentali, che possono essere di fede, che possono essere di relazioni, che possono essere... Però è logico che il vuoto c'è, l'assenza c'è, il posto a tavola è sempre vuoto, insomma, quello è normale. Però la cosa che ho cercato immediatamente di mettere da parte è di farmi una domanda. Perché? E quello ho cercato di cancellarlo. Ho cercato di cancellarlo immediatamente, dato che non esiste una risposta che non abbia subito dopo un altro perché. Perché tu dici perché è successo a Nicolò, perché è successo a noi, perché era un motorino, perché pioveva, perché questo, perché pioveva, perché non c'è stato... E non smetti mai, cioè non riesci mai ad avere una pace interiore, se così la possiamo camare, no? Ecco, e lì interviene la fede. E lì interviene la fede, il pensiero, il cammino che io non potrò mai maledire colui che mi ha dato Nicolò. Perché la gioia... Noi, noi quando, noi ci siamo sposati, con Anna vivevamo già da un anno insieme, abbiamo deciso di sposarsi perché volevamo un figlio. Anna doveva essere maschio e doveva essere Nicolò. E noi non... Cioè queste sono cose che non è che puoi metterle da parte, dici questo un conta. No. Perché è stato maschio, era Nicolò. Abbiamo avuto tutto quello che da Nicolò, che Nicolò ci potesse regalare, ce l'ha dato, anche se soltanto per 17 anni. Però, in quel momento, aveva bisogno di lui. Come dicevo prima, tanto avrò tempo e modo per poter stare insieme. Certo, mi manca l'abbraccio, mi manca di sentirlo. Ho avuto soltanto una grande fortuna una notte. Una notte che l'ho sognato. Ho sognato che stava salendo le scale, ci siamo abbracciati e devo dirvi che è stato un momento meraviglioso perché era di carne. Era lui. Ecco, mi piacerebbe poterlo ritrovare qualche altro sogno di questo genere. C'è tanta intensità e credo un bisogno anche poi di viversere dentro le cose che ci ha detto Giovanni, svariando su tanti ambiti con questa semplicità e con questa profondità. Io volevo fare una piccola operazione che mi permette di presentarvi una persona. Paola, vieni con me. E accomodati pure nella posizione dell'intervistatrice perché è una posizione che assumi molto bene. Vi spiego il motivo. Da alcuni anni c'è una trasmissione di Rai 2 sulla via di Damasco che spesso viene a Romena e racconta i nostri convegni. Lo fa con una qualità, con un'attenzione, con una cura bellissima. Quindi ci ritroviamo ai nostri convegni visti da un pubblico nazionale ma restituiti nella loro essenza. L'ultima volta siete venuti per Pasqua raccontando a tutta l'Italia la Pasqua da Romena. E qui innanzitutto io ti voglio ringraziare Paola per questo lavoro bellissimo. E siccome sei qua e tra poco ci prenderai Giovanni per intervistarlo, facciamo gli spioni e vogliamo ascoltare almeno una domanda che sarà quella che concluderà il nostro incontro. Io sono un po' in difficoltà perché io lavoro dietro le tre camere e non davanti, quindi mi sento intimiditissima. Vi ringrazio sempre e comunque per l'accoglienza che è incredibile, è una gioia vera stare qui con voi sempre. E a Giovanni vorrei chiedere una cosa, legandolo proprio al bellissimo discorso che ci ha fatto prima Affinati. Abbiamo parlato di giovani suoli, di giovani adolescenti in difficoltà che non comunicano. Il calcio, ma soprattutto il calcio di oggi, può essere una soluzione, una strada da percorrere? Sì, assolutamente sì. Può essere veramente una medicina, proprio per quello che mi piace sempre sottolineare, la capacità di essere e di condividere con gli altri. Bisogna essere anche un po', devo dirti, psicologi, perché all'interno di un gruppo hai tanti bambini difficili, che magari hanno situazioni familiare o roba... Logicamente bisogna che spesso e volentieri tu incontri sia il bambino che i genitori per cercare di capire, per sapere anche qual deve essere il tuo comportamento. Perché io ritengo che ogni bambino ha la sua storia e fermo restando l'educazione di gruppo, poi dopo bisogna cercare di aiutarli. Avevo un bambino quest'anno che non riuscivo a capire perché avesse così tanta rabbia dentro. L'ho chiamato, ho parlato con lui, tutto bene, tutto bene. Poi è venuto il genitore e mi ha detto, sa, ha un fratello più grande, è un campione di atletica. E la sua sfida era quella con il campione di atletica. Per cui la rabbia che lui aveva dentro, in qualsiasi situazione che fosse emotiva, che fosse di gioco, era esagerata. E allora cercavo io di capirlo, l'ho portato a pranzo con me, l'ho portato in giro, e si cerca anche di fare queste cose. Per cui, ecco, io credo che debba esserci da parte di chi è a contatto, soprattutto con i ragazzi, la disponibilità di saperli ascoltare. Grazie Paola, buon lavoro. Un campione, un uomo, un grande amico. Grazie Giovanni. Ciao, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.